Buongiorno a tutti, mi chiamo Marta Salvatore e sono un dottore di ricerca in rileva e rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente e docente di questo corso. Mi occupo da diversi anni di geometria descrittiva e perciò degli argomenti che sono caratteristici di questa scienza, che sono appunto i metodi della rappresentazione grafici e digitali, ma in particolare mi occupo dello studio delle superfici e delle loro proprietà. Questo corso, come sapete, si intitola Modellazione di superfici, modellazione solida e prototipazione. Obiettivo principale di questo corso è quello di fornirvi gli strumenti teorici e pratici necessari al controllo di alcune superfici complesse, ampiamente usate e diffuse in architettura. A questo scopo il corso si articolerà in lezioni teoriche alternate a esercitazioni pratiche. Nelle lezioni teoriche verranno illustrate le proprietà notevoli di alcune superfici, diciamo di una selezione, di un numero limitato di superfici e invece nelle lezioni pratiche saranno sviluppate delle esercitazioni di modellazione solida di un'architettura o parte di essa, in cui saranno impiegate le superfici appunto descritte nella lezione precedente. Le superfici sono state scelte nel repertorio delle superfici rigate per via delle numerose applicazioni che queste superfici hanno trovato e ancora oggi trovano in architettura. Gli esempi scelti invece sono tratti dal repertorio delle opere di Pierluigi Nervi, che non credo abbia bisogno di presentazioni. La parte finale del corso invece è dedicata alla prototipazione rapida e quindi ai procedimenti necessari, diciamo, da conoscere per poter stampare il modello, i modelli solidi che avete realizzato. In particolare sarà dedicata una lezione alla costruzione di un file STL che è il formato richiesto dalla stampa stereotitografica, diciamo lo standard di stampa stereotitografica e agli strumenti preposti al controllo della qualità del modello, perché come vedremo un modello per la stampa stereotitografica deve rispondere a determinati requisiti. Buona parte della lezione sarà poi dedicata alla tassellazione delle superfici necessaria per convertire, diciamo, un modello NERS, che è quello che noi andremo a realizzare in un modello poligonale e il corso si concluderà con una ricognizione sui procedimenti di stampa e le tecnologie attualmente disponibili per poter stampare. Quindi parleremo delle stampanti, dei materiali che queste stampanti, diciamo, utilizzano e, diciamo, delle stampanti costose e anche delle stampanti low cost, che sono quelle, diciamo, che in questo momento stanno, si stanno conquistando una buona fetta di mercato, diciamo, proprio perché sono accessibili a tutti e fra non molti anni probabilmente la stampa diventerà accessibile tanto quanto lo sono a tutt'oggi le stampanti cartacee. Per approfondimenti sui contenuti teorici di questo corso, potete fare riferimento al testo scritto dal professor Riccardo Migliari, che si intitola Geometria Descrittiva e che è edito da Cittastudi. Prima di entrare nel merito, però, di questo corso, ci domandiamo per quale ragione oggi che abbiamo i computer a disposizione dobbiamo dedicare del tempo a studiare le proprietà delle superfici, se in fondo, se tutto sommato le tecnologie correnti ci permettono di realizzare qualsiasi forma libera. E questo è testimoniato in effetti dai molti esempi di architetture realizzate dai maestri dell'architettura contemporanea. Ebbene, questa domanda merita, a mio avviso, una riflessione. Oggi i processi dell'edilizia si vanno man mano specializzando e questo per diverse ragioni. In parte per la complessità delle forme che si vogliono gestire, che sono sempre più complesse, sono sempre più libere, in parte per il repertorio sempre più ampio delle tecnologie e dei materiali che si possono impiegare. Queste specializzazioni sono sempre più capillari e tendono ad allontanare in qualche modo gli architetti dalle logiche della costruzione, avvicinandoli a degli artisti a cui è demandato il concept dell'architettura. E così ci sono società a cui è demandato il compito di controllare, in gergo si dice di ottimizzare le forme. Che vuol dire ottimizzare le forme? Beh, vuol dire razionalizzarle, vuol dire semplificarle per inviarle poi in ultima istanza alle aziende produttrici di componenti che saranno in grado di realizzare poi queste forme. In altri casi, guardate, sono proprio le aziende stesse invece che producono i componenti che si fanno carico di questi processi di ottimizzazione della forma, producendo magari numerosissimi pezzi. Ci sono guardate architetture contemporanee che richiedono, che so, anche 50.000 pezzi speciali per soddisfare caratteristiche formali particolarmente esigenti. Bene, questa trasformazione che è propria di questi anni, di questi ultimi anni in cui l'architettura è cambiata, è difficile da metabolizzare, perché è ancora in divenire. Però vede l'architetto in parte, cioè rischia forse, diciamolo meglio, rischia forse di vedere in parte l'architetto defraudato di parte delle sue emozioni. Oggi è paradossale perché gli strumenti che abbiamo a disposizione, la tecnologia oggi, ci permette di controllare le forme nello spazio con livelli di accuratezza mai raggiunti fino ad ora. A partire dal fatto che oggi è possibile rappresentare nello spazio, una cosa che fino a, non so, una ventina di anni fa forse si può dire, era davvero difficile da immaginare. Quindi oggi possiamo rappresentare nello spazio, lo possiamo fare con livelli di accuratezza molto, molto elevati dell'ordine del micron e sono livelli di accuratezza molto lontani da quelli che si potevano raggiungere con la riga e col compasso, che erano gli strumenti grafici, diciamo, grafici del disegno. E possiamo in ultima istanza tornare alla maquette, cioè tornare alla costruzione del plastico, però come lo possiamo fare? Beh, lo possiamo fare anche in questo caso con un valore aggiunto, perché mentre prima si era costretti a ricorrere all'artigiano, se non altro per la realizzazione di plastici molto sofisticati, adesso possiamo noi stessi progettisti controllare il processo di costruzione della maquette. Cioè la prototipazione rapida, diciamo, elimina una fase che è quella dell'intermediario di una persona che, diciamo, interviene all'interno del processo creativo e quindi ci permette di controllare in modo diretto e capillare la costruzione dei nostri modelli. Tutto questo è possibile, la tecnologia ci mette in condizione di fare tutto questo, ma la condizione qual è però per poter fare tutto questo? Beh, nella condizione è quella di evitare di subire il software. Che cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che i software di solito ci propongono delle superfici che magari generano per caso, che sono molto seducenti. Ora, il punto è proprio questo, cioè non dobbiamo subire il software, ma dobbiamo avere chiaro il risultato che vogliamo ottenere e dobbiamo scegliere perciò lo strumento adatto per raggiungere questo risultato. In che cosa si traduce questo? Beh, questo si traduce nella conoscenza della teoria, cioè nella capacità di immaginare le forme dell'architettura e nel saperle controllare e perciò costruire, prima nella testa e poi con i metodi del disegno, che siano i metodi grafici per intenderci oppure digitali, perché parliamo sempre di rappresentazione, quando noi costruiamo un modello, anche un modello tridimensionale, è una rappresentazione dell'architettura. Quello che conta, come dicevo prima, è evitare di subire lo strumento digitale. Bisogna piuttosto porsi l'obiettivo ambizioso di riuscire a controllare e ottimizzare queste forme complesse, con l'aiuto e il supporto e tutto il supporto che la teoria ci può dare. A questo riguardo Pierluigi Nervi è un esempio significativo e non per caso ho scelto delle opere di Pierluigi Nervi come esercitazioni in questo corso, perché è vero che sono superfici che si controllavano con la riga e col compasso, oggi possiamo sperimentare superfici ben più complesse. È pur vero però che l'ottimizzazione della forma è proprio la condizione di sussistenza di tutti i sistemi costruttivi nerviani e quindi questo è un grande valore, a mio modo di vedere le cose è un'ottima palestra. Una volta che si controlla la forma e quindi si riesce a progettare, cioè a controllare la forma nello spazio, bisogna saper scegliere con intelligenza il metodo più adatto alla sua rappresentazione, cioè alla descrizione della forma. A questo riguardo la scuola romana di geometria descrittiva che fa capo al professor Riccardo Migliari affianca da diversi anni ai metodi grafici della rappresentazione i metodi digitali e li ritiene assolutamente pari rango e chiama questi metodi digitali rispettivamente metodo della rappresentazione matematica e metodo della rappresentazione numerica. Guardate bene, questi metodi non fanno riferimento a software specifici o meglio, diversi software possono essere classificati come software di rappresentazione matematica e software di rappresentazione numerica. La differenza tra questi due metodi è sostanziale perché il metodo della rappresentazione matematica descrive le forme nello spazio in modo continuo attraverso equazioni, il metodo della rappresentazione numerica invece descrive le forme nello spazio in modo discreto attraverso gli stati di pubblico. Qual è il risultato? Il risultato è che nel metodo della rappresentazione matematica io sono in grado di controllare la morfologia di un'architettura in modo continuo in tutte le sue parti e per questo questo metodo è adatto al controllo morfologico delle superfici e al controllo metrico delle superfici. Il metodo della rappresentazione numerica invece, poiché costruisce le superfici in modo discreto e c'è per punti che gli appartengono, approssima la superficie e quindi è adatto a una descrizione di tipo percettivo della forma. Vorrei fare un esempio pratico per capire di che cosa si sta parlando e vorrei citare i software più diffusi che maggiormente sono in uso nei corsi di laurea in architettura. Per esempio tutti conoscete 3D Studio Max, Cinema 4D e bene questi sono software di modellazione numerica. Che cosa significa questo? Significa che se io voglio costruire una sfera per esempio all'interno di 3D Studio Max o di Cinema 4D che sono equivalenti, la sfera io la vedo come una sfera ma non si tratta di una sfera, in verità quell'oggetto è un poliedro, cioè è composto da tante facce piane che passano per dei vertici che appartengono alla superficie della sfera. Risultato, se seziono quella sfera con un piano non otterrò certo una circonferenza ma un poligono. Andiamo dall'altra parte, software di rappresentazione matematica. I software di rappresentazione matematica invece descrivono la forma in modo continuo. Cosa significa questo? Significa che c'è un'equazione che descrive la forma, si tratta di un'equazione parametrica, quindi una sfera è una sfera a tutti gli effetti e se seziono questa sfera ottengo una circonferenza come è logico del resto che sia. Fatta questa premessa è sostanziale soprattutto per farvi capire le ragioni che mi hanno portato a scegliere per un corso di questo tipo un modellatore matematico. In questo corso, quindi lo studio delle superfici, verrà condotto direttamente nello spazio virtuale di un modellatore matematico. Potete utilizzare qualsiasi software basato su una matematica NERVS. Quello proposto dal corso è Rhinoceros che è disponibile in versione di valutazione sul sito Rhinoceros 3D della Meknik, che è appunto la casa che lo produce. La versione di valutazione vi permette 25 salvataggi, però vorrei che li usaste con una certa parsimonia e vi spiego perché. Perché quando andremo poi a costruire i modelli STL, cioè i modelli per la stereolitografia e dovremo esportare il nostro modello matematico, tutte le esportazioni vengono considerate dal software dei salvataggi e quindi dovete tenere conto quando salvate di questa necessità che avrete. Cioè vi serviranno dei salvataggi alla fine del corso, quindi cercate di usarli con una certa parsimonia. Software alternativi, dicevo prima, qualsiasi software di modellazione NERVS, se volete potete utilizzare anche Think Design. Vi devo dire però che per economia di tempo, vista la durata di questo corso e tempo a disposizione, chi volesse usare Think Design dovrà provvedere in autonomia alla ricerca dei comandi corrispondenti. Bene, fatta questa premessa, oh scusate, vi vorrei, vi darò dei riferimenti più chiari nel corso delle lezioni. Ora purtroppo non ho preso nota del titolo esatto del corso, ma per chi volesse approfondire invece proprio i principi della modellazione matematica, potete fare riferimento a un corso CESMA che si è tenuto l'anno passato, tenuto dal professor Baglioni, sono disponibili le lezioni online. Allora cominciamo ora a entrare invece nel merito degli argomenti del corso. Allora, poiché questo corso si propone di modellare le superfici, quindi noi studieremo alcune superfici esemplificative, diciamo, studiate le superfici ne faremo un'applicazione, però per modellare le superfici è importante quindi conoscerne le proprietà. Questa prima lezione consiste in una introduzione ad alcune superfici notevoli e alle loro possibili classificazioni in ragione di diverse proprietà che andremo ad analizzare. Le superfici possono essere descritte e di conseguenza anche classificate da diversi punti di vista, quello della geometria sintetica, quello della geometria analitica per esempio, e quello della geometria differenziale. Intanto chiariamoci su che cos'è la geometria sintetica. La geometria sintetica è la geometria della costruzione, la geometria del disegno, diciamo, e quindi è l'aspetto per noi che siamo architetti forse più interessanti degli altri. E non a caso le superfici sono classificate dal punto di vista della geometria sintetica in ragione della loro genesi. Che cos'è la genesi? Beh, la genesi è il procedimento adoperato per poterle costruire. guardate che è molto importante questa riflessione. C'era Gino Loria, che era un matematico del, era un famoso matematico del Novecento, che diceva che la costruzione è una dimostrazione esistenziale della forma. E questo significa che se io una forma la posso costruire, la possibilità di costruirla diventa essa stessa dimostrazione del fatto che la forma esiste, che la forma c'è. Quindi la geometria sintetica descrive le superfici in funzione del procedimento adoperato per poterle costruire. Il punto di vista della geometria analitica è diverso, poiché le superfici vengono classificate rispetto al grado delle equazioni che le descrivono. Ogni superficie, come sapete, può essere definita da un'equazione, questa equazione ha un certo grado e quindi la geometria analitica descrive le superfici attraverso il grado. La geometria differenziale, infine, considera le superfici come classi bidimensionali di punti che soddisfano determinate condizioni locali. Ora, sulla classificazione differenziale delle superfici, ci torneremo dopo, in un secondo momento, parleremo di proprietà differenziali quando parleremo della curvatura delle superfici. Quindi per questo momento preferirei lasciarle da parte, perché verranno approfondite appunto in un secondo momento. Quello che è importante che voi sappiate è che ognuna di queste descrizioni mette in evidenza proprietà geometriche particolari e diverse. Allora, la descrizione sintetica delle superfici considera la genesi delle superfici e considera le superfici come luoghi geometrici. Sapete che cos'è un luogo geometrico? Un luogo geometrico è l'insieme dei punti che soddisfano una certa condizione e che godono di certe proprietà. Possiamo quindi immaginare una curva che si muove nello spazio secondo una certa legge. Ebbene, questa curva forma una superficie. Questa superficie è il luogo, si dice, delle infinite posizioni che la curva può assumere. Ora, la curva in questione si chiama generatrice della superficie. La legge del movimento della superficie è anche lei espressa per mezzo di una o più linee. Queste linee prendono il nome di direttrici. E qui si vede un po' meglio questo concetto perché rispetto alla genesi delle superfici per il movimento, diciamo, di una curva lungo un'altra curva, cioè di una curva generatrice lungo una curva direttrice, vi suggerisco di impadronirvi di questi termini anche perché saranno ricorrenti poi nello studio delle superfici che seguirà questa lezione introduttiva. Quindi la generatrice è la curva che genera, diciamo, che dà la forma. La direttrice invece è la curva che, diciamo, rende fisica la legge del moto, cioè ci fa vedere qual è la legge del moto nella genesi della superficie. Dal punto di vista, allora, della geometria sintetica possiamo descrivere, definire le superfici come superfici di traslazione, superfici di rivoluzione, superfici di rototraslazione. Che cosa significa questo e quali sono le differenze? Beh, le superfici di traslazione forse sono le superfici più semplici da immaginare perché data una curva come questa che vedete qui in figura, che è questa curva rossa, questa generatrice. Beh, la generatrice scorre, in questo caso, lungo una retta direttrice, non sta scritto da nessuna parte che debba essere una retta, insomma, può scorrere anche lungo un'altra curva. Ecco, guardate che queste costruzioni, che sono costruzioni geometriche, hanno delle relazioni molto strette con la costruzione fisica di queste superfici. Immaginate, per esempio, all'uso di un modano o di una dima, ebbene, di solito le dime venivano fatte scorrere lungo una direzione, no? Per costruire, lo so, anche per lavorare di stucchi o cose di questo tipo. Quindi, il senso della costruzione nello spazio virtuale che il computer ci mette a disposizione ha delle analogie strettissime poi con il senso invece della costruzione nello spazio reale. Quindi, superfici di traslazione, superfici di rivoluzione, ecco, in questo caso la rivoluzione è un moto, diciamo, rotatorio che la curva generatrice compie attorno a un'asse che si chiama, appunto, asse di rivoluzione. La generatrice è sempre la stessa curva che vedete in rosso, la direttrice, nel caso delle superfici di rivoluzione, è sempre una circonferenza. Ultimo caso, quello delle superfici di rototraslazione. In questo caso, il movimento è composto, quindi, diciamo, la curva generatrice compie un movimento di traslazione lungo una curva direttrice e un movimento di rivoluzione intorno a un'asse. Qui lo vedete, in questo caso, la curva direttrice, le curve direttrici poi sono più di una, sono queste due curve bianche che vedete qui, in questo caso sono due eliche cilindriche. Vedete, queste sono le direttrici. Questa rossa è sempre la curva generatrice e questo è l'asse di rivoluzione della superficie. Quindi, ripetiamo, superfici di traslazione, superfici di rivoluzione e superfici di rototraslazione. Le superfici, poi, sempre rimanendo nella descrizione sintetica e quindi legata alla costruzione della superficie, possono essere generate dal movimento di una retta nello spazio. Guardate, questa è una caratteristica notevole delle superfici. Questa famiglia di superfici, che si chiamano superfici rigate, è una famiglia notevole. Le superfici rigate hanno avuto in architettura, fin dai tempi della lavorazione della pietra, grandissime applicazioni. Perché? Perché la proprietà notevole di queste superfici è che è possibile stendere sulla loro, diciamo, su di loro una riga, una linea retta. Questa caratteristica, come dire, le ha rese di semplice realizzazione. Vi ripeto, sin dai tempi in cui gli scalpellini tagliavano la pietra, lì ci sono moltissime applicazioni di stereotomia, si chiama. La stereotomia è la scienza del taglio dei solidi, in particolare della pietra e del legno. Molte superfici erano superfici rigate, perché per tagliare la pietra veniva utilizzata un'asta di legno che si poggiava sopra la pietra e che aveva la funzione di modano, di modano, di dima, cioè serviva per guidare le operazioni del taglio. Quindi la facilità di esecuzione delle superfici rigate ha incrementato notevolmente il loro utilizzo nell'architettura. Ma non soltanto però nell'architettura della pietra, guardate, anche nell'architettura del cemento armato. E non è un caso, infatti, che Pierluigi Nervi faccia ampio uso di superfici rigate nella sua architettura. Si può dire che le superfici rigate siano proprio caratteristiche delle architetture di Pierluigi Nervi. E perché questo? E beh, perché il cemento gettato in opera richiede la costruzione di una cassaforma. E la cassaforma di una superficie rigata è facile da costruire, perché si possono disporre gli assi di legno che andranno a comporre la cassaforma lungo le generatrici della rigata. E quindi questo, come dire, produce un'economia di lavorazione e garantisce una certa, come dire, accuratezza nell'esecuzione della superficie. Dunque, le rigate, vi dicevo, sono generate dal movimento di una linea retta lungo una curva. In realtà, un particolare teorema enunciato da Gaspar Monge alla fine del Settecento dà un'elegantissima dimostrazione esistenziale delle superfici rigate. Ma anche su questo argomento ci torneremo più avanti, perché parleremo molto di superfici rigate. Considerate che proprio le esercitazioni oggetto di questo corso riguardano le superfici rigate. In generale, però, quello che possiamo dire è che date tre curve sghembe nello spazio, guardate, le vedete qui, sono queste tre curve bianche, eh? Tre direttrici. È possibile per queste far passare una superficie rigata. Sebbene, devo dirlo, ma lo spiegheremo più avanti, quando spiegheremo meglio il teorema di Monge, il dominio della superficie vada sempre verificato. Le rigate, in sintesi, ammettono una generatrice retta e tre direttrici che possono essere curve oppure anche rette. Una particolare famiglia di superfici generate dal movimento di una retta è la famiglia delle sviluppabili. Queste superfici hanno la caratteristica di essere anche rigate, però hanno un'altra proprietà notevole e questa proprietà è quella di poter essere srotolate e immaginate su un piano. Come si costruiscono queste superfici? Beh, queste superfici si costruiscono costruendo le tangenti a una curva. Immaginate una curva nello spazio, immaginate di costruire tante rette tangenti a questa curva. Ebbene, queste rette descrivono una superficie che si chiama superficie sviluppabile e che si chiama sviluppabile proprio perché può essere sviluppata e cioè srotolata nel piano. La curva, diciamo, direttrice prende il nome di spigolo di regresso. Pensate per esempio a un cono che forse la superficie sviluppabile è più semplice che può venire in mente. Avete mai, forse vi sarà anche capitato di giocare con la carta e con le forbici e tagliare un cono lungo una delle sue generatrici fino al vertice. Ebbene, il cono si può aprire completamente e, diciamo, torna a essere piano. Pur ancora più semplice, vi sarà capitato senz'altro di arrotolare un foglio di carta per ricavarne un cono. Il principio è esattamente lo stesso. E questa proprietà di poter essere sviluppate, perciò srotolate nel piano, ne ha fatto delle superfici privilegiate. Anche le rigate, anche le sviluppabili, ancora più delle rigate, erano superfici privilegiate. Perché pensate, per esempio, al fatto che sviluppare una superficie progettata permetteva di rappresentarla su un foglio, diciamo, su un supporto qualsiasi, un foglio improprio perché siamo in anni in cui la carta ancora non era disponibile, insomma, ma diciamo di poterle rappresentare su un supporto qualsiasi al vero e di poter verificare poi sopra la superficie la corretta esecuzione della superficie. Vi faccio un esempio più diretto che forse vi faccio vedere delle idee, sempre parlando dei conci di pietra. Vi ho spiegato che era facile costruire una superficie rigata perché un'asta veniva usata come modano. Beh, se la superficie fosse stata anche sviluppabile, se la superficie era sviluppabile, i vantaggi erano davvero notevoli perché si realizzavano delle sagome in piombo, si chiamavano pannò, che erano proprio gli sviluppi della superficie. Queste sagome in piombo, il piombo è un materiale utile, quindi il piombo veniva poi riapplicato sulla superficie intagliata, sulla superficie in pietra e si verificava il corretto andamento della superficie. Quindi considerate che, soprattutto nella storia dell'architettura, l'uso delle superfici, le superfici sono sempre state scelte in ragione della semplicità, l'esecuzione e di controllo. Rimaniamo ancora nell'ambito della descrizione sintetica delle superfici. Possiamo generare le superfici anche per via proiettiva. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire proiettare una curva da un centro. Questo centro può essere proprio oppure improprio. Che vuol dire centro improprio? Vuol dire che non è un punto, ma è una direzione. Un esempio semplice da capire di questo tipo di genesi interessa la costruzione, per esempio, di coni e cilindri. Vedete in figura il caso a sinistra, che è il caso del cono, vedete una curva generatrice, che è questa bianca, e un centro proprio, che è questo pallino rosso. Nel caso del cilindro, il centro non è proprio, ma è una direzione e otteniamo quindi un cilindro. In questo caso, barate bene, la superficie è sempre luogo geometrico. Abbiamo detto che è luogo di punti che rispettano una certa condizione, quindi di enti geometrici che rispettano una certa condizione. In questo caso, la superficie è il luogo geometrico delle rette che proiettano i punti di una curva in una relazione di tipo proiettivo. Qui la faccenda si complica un po' perché siamo sempre nella descrizione sintetica e sempre nelle descrizioni di tipo proiettivo. Basti sapere che alcune superfici possono essere generate per trasformazioni omologiche di altre superfici. È questo il caso della sfera. Si tratta sempre di trasformazioni proiettive. Ora, per il momento è importante che capiate che la sfera, in questo caso, si può trasformare in un ellissoide, un paraboloide e in un iperboloide. Ora, forse non è questo corso, la sede giusta per approfondire questo argomento, però siamo sempre nell'ambito della genesi proiettiva delle superfici. Diciamo che è inserita questa immagine più per completezza nella trattazione dei contenuti che per approfondimento. In tutti i movimenti che abbiamo descritto fino adesso, la generatrice e la direttrice sono rigide. Che vuol dire che sono rigide? Beh, vuol dire che non subiscono deformazioni durante il movimento. Di recente, però, gli studi condotti sulle carrozzerie delle auto, sugli scafi nelle navi o sulle carene degli aeroplani hanno portato ad equazioni parametriche capaci invece di descrivere anche movimenti non rigidi. Se immaginate il moto di una curva generatrice che ha due estremità su due curve direttrici diverse, come il caso che vedete rappresentato qui in figura, è evidente che la generatrice dovrà modificare necessariamente la distanza degli estremi alla fine del moto e la superficie che ne risulta sarà data da un'interpolazione progressiva di una o più curve direttrici e di una o più curve generatrici. Guardate, questa descrizione delle superfici, che è la descrizione caratteristica del metodo della rappresentazione matematica, ci permette di descrivere qualsiasi superficie. Diciamo l'ultima esercitazione sarà dedicata proprio a questo genere di superfici qui. Con le superfici di interpolazione concludiamo la descrizione sintetica delle superfici. Vi ricordo, la descrizione sintetica è quella che considera le superfici in relazione alla loro costruzione geometrica. Abbiamo detto in apertura che noi possiamo descrivere le superfici per via sintetica, per via analitica e per via differenziale. Vediamo la descrizione analitica delle superfici. Vi ho anticipato che dal punto di vista analitico le superfici vengono descritte in funzione del loro grado. E che cos'è il grado di una superficie? Il grado di una superficie è il grado dell'equazione che la descrive. Il grado però si può descrivere anche dal punto di vista sintetico. Ora questa sembra una considerazione che complica le cose, in verità le semplifica molto. Lo posso visualizzare il grado? Cioè posso sapere che cos'è dal punto di vista fisico il grado della superficie? Ebbene sì, lo posso sapere perché il grado di una superficie, che in geometria si chiama ordine, ma è sinonimo, quindi va bene sia che diciate ordine o grado, è il numero massimo dei punti che questa superficie ha in comune con una retta che la attraversa. E lo vedete qua in figura. In questa figura è rappresentato un paraboloide iperbolico che è una superficie di secondo grado e vedete che è intersecata da una retta in due punti. Ora una riflessione importante da fare. Quando parliamo di superfici abbiamo due tipi di superfici. Delle superfici che racchiudono una certa porzione di spazio, quelle che non racchiudono una certa porzione di spazio devono sempre essere considerate infinitamente stese. Sempre. Noi siamo abituati a lavorare con porzioni di superfici, ma lo facciamo perché siamo architetti e perché quindi usiamo in architettura pezzi di superfici, porzioni di superfici. Ma le superfici vanno sempre sempre considerate infinitamente stese. Allora questo schema appare più chiaro. Allora capite bene come il numero massimo che una retta è in comune con una superficie lo incontra in un numero finito di volte. Ebbene quel numero è il grado della superficie. Considerazione ulteriore. Può accadere però che questa retta incontri la superficie in un numero infinito di volte. Questa differenza nelle intersezioni identifica due famiglie di superfici. Le superfici che incontrano la retta in un numero finito di punti si chiamano, le chiamiamo ricorsive. Guardate, non c'è un termine codificato dalla geometria descrittiva per indicare questo tipo di superfici. Però ricorsivo è un termine che spiega bene, a mio avviso, il procedimento. Come vedremo nella slide che segue. Qui vedete un elicoide, una vita a filetto rettangolare per essere precisi. Vedete che un elicoide incontra una retta nello spazio in un numero infinito di volte, sempre immaginando le superfici come infinitamente stese. E quindi è una superficie ricorsiva. Guardate, qualcuno chiama queste superfici superfici trascendenti e va bene lo stesso. È un termine questo tratto, diciamo, preso in prestito da Gino Loria, matematico a cui facevo riferimento prima, che però lo adopera nel caso delle curve. Qui non ci sono, almeno per quel che ne so io, riferimenti diretti alle superfici, ma va bene lo stesso. La cosa importante è capire bene questa differenza. Vedete a sinistra un elicoide, quindi una superficie trascendente, a destra due superfici algebriche. Guardate, c'è una sfera a grado 2 e vedete che la retta incontra la sfera in due punti. E vedete un toro. Il toro ha grado 4 e infatti il massimo di punti che una retta può avere in comune con il toro è 4. Tutte le superfici algebriche, cioè le superfici che hanno un grado finito, che sono attraversate da un numero finito di punti, da una retta, godono delle seguenti proprietà. Allora, due superfici algebriche si intersegano secondo una curva, il cui ordine è dato, cioè il cui grado di questa curva è dato dal prodotto degli ordini delle due superfici che la generano. Che vuol dire questo? Vuol dire che se io intersego, come in questo caso, un cono con una sfera, queste sono due superfici che hanno grado 2. Che cosa vuol dire questo? Beh, vuol dire che la curva intersezione, che vedete non è una curva piana, è una curva gobba. Le curve quando si dispongono nello spazio e non sono piane si chiamano gobbe o sghembe, come preferite. Questa curva gobba o sghemba, come preferite, è a grado 4. Questo è un caso particolare per cui la curva, diciamo, risultante si può spezzare in due curve. Queste sono due circonferenze che hanno grado 2 e quindi due volte 2 poi da 4. Ma insomma, senza entrare in questi dettagli, la cosa importante è che capiate che l'intersezione è data da questo prodotto. La conseguenza di questo è notevole. È notevole perché? Perché le sezioni piane, quindi se io taglio una superficie algebrica con un piano, ottengo una curva che ha lo stesso ordine della superficie. Questa proprietà è una proprietà notevole perché se voi pensate alle superfici di secondo grado, per esempio, no? Bene, queste superfici tagliate da un piano restituiscono una curva di secondo grado. Una curva di secondo grado è una conica nella fattispecie e le coniche, le avrete studiate tutti al liceo, sono curve notevole. Questo vuol dire che se io devo progettare un'architettura, per esempio le superfici di secondo grado, diciamo, da sempre trovano e hanno trovato ampia applicazione nei sistemi voltati. Se pensate a una volta a botte, tutti sapete che una volta a botte è un cilindro. Se pensate a una volta a botte lunettata, tutti sapete che la lunetta può in alcuni casi essere un'altra superficie cilindro. E quindi il fatto di poter controllare queste sezioni o queste intersezioni permetteva il controllo proprio della fase progettuale e quindi il controllo della messa in opera di queste superfici e di questi sistemi. Quindi sapere che gli spigoli, una volta a crociera, sono delle coniche, mette in condizione di poterne controllare la costruzione. Va bene, qui c'è un altro esempio, è l'esempio del toro che mostra appunto questo stesso discorso, per cui qui vedete un toro che interseca un elissoide, il toro a grado 4 e l'elissoide a grado 2 e la curva che ne deriva è evidentemente grado 8, insomma sono le stesse cose, è un esempio di tipo diverso. Detto questo, dunque la descrizione analitica abbiamo detto che prende in considerazione il grado, allora dovete sapere che le superfici che hanno grado 2 si chiamano superfici quadriche. Le superfici quadriche sono un numero finito di superfici, sono quelle che vedete qui, sono la sfera, il cono, il cilindro, l'elissoide, il paraboloide e l'iperboloide. Se sezioniamo con un piano queste superfici, otteniamo una curva di secondo grado, e cioè una conica. Questa classificazione però che io vi ho fatto vedere fino adesso, diciamo, queste proprietà sono anche trasversali alle superfici. Ora vorrei che vi concentrasse su questi riguardi che mi rendo conto non si vedono bene, però prendiamo in considerazione i coni e i cilindri. Qui vedete delle distinzioni, ma entreremo nel merito nelle lezioni successive fra cono ellittico e con rotondo, cilindro ellittico e cilindro rotondo. Parliamo di coni e cilindri in generale. Coni e cilindri sono quadriche e sono rigate, e lo stesso vale per l'iperboloide a una falda e per il paraboloide iperbolico. Queste quadriche che vedete sotto e che prendono tutta l'accezione di rotondo sono anche superfici di rivoluzione, che vuol dire questo, che sono generate dalla rivoluzione di una curva intorno a un'asse, come abbiamo visto prima. Quindi queste caratteristiche, queste genesi, si possono, diciamo, sovrapporre. Prendete per esempio i coni, i coni sono superfici rigate, sono superfici quadriche e possono anche essere generate per rivoluzione di una linea retta intorno a un'asse. Questo per farvi capire che queste proprietà sono trasversali. Di solito non è proprio generalizzabile, però di solito l'aumentare del grado della superficie ne aumenta anche la complessità. E a questo scopo vi faccio vedere le due immagini che seguono superfici di grado superiore al secondo. Queste sono superfici cubiche, sono superfici di terzo grado. Queste in basso sono cubiche rigate, lo vedete, no? Lo vedete in questi modelli. Questi sono modelli molto belli, se vi dovesse capitare di andarli a vedere, sono a Torino, all'Università di Torino, alla Biblioteca di Matematica Giuseppe Peano, e queste sono superfici di grado 4, questa addirittura di grado 8, questo per, diciamo, avere un'idea del tipo di superfici in ragione del grado. La descrizione analitica delle superfici e delle curve, che è, diciamo, necessaria al software per poterle rappresentare, però non prende, diciamo, equazioni algebriche come riferimento, ma le equazioni sono parametriche. Noi abbiamo a disposizione all'interno del software gli strumenti del disegno per poter costruire, quindi, diciamo, utilizzeremo sempre delle costruzioni geometriche, però è bene che voi sappiate che la descrizione, l'equazione a cui fa riferimento una curva, una superficie, è un'equazione di tipo parametrico. Dov'è che torna utile questo? Beh, questo può tornare molto utile per la rappresentazione di alcune entità geometriche che sono difficili o forse anche impossibili da rappresentare. Vi faccio un esempio, lo lancio lì, ma, insomma, piuttosto significativo, che è quello della catenaria. La catenaria, non so se conoscete questa curva, è la curva che si ottiene appendendo due lembi di uno spago, stente sospese le mani con due lembi di uno spago, ebbene, la curva si dispone secondo una, diciamo, la curva che ottenete, la corda si dispone secondo una catenaria. La curva è molto, molto simile alla parabola, però non è una parabola. Allora, un'equazione parametrica vi permette di costruire una curva che approssima in modo soddisfacente la catenaria. Insomma, è uno dei diversi esempi. È bene che sappiate che c'è questa possibilità, cioè di generare le forme in ambiente digitale attraverso l'inserimento di un'equazione parametrica. Ho queste immagini che vedete. Io ho chiamato questa slide superfici particolarmente usate in architettura. Perché sono particolarmente usate in architettura? Perché vedete, nella striscia superiore, vedete superficie algebricche di grado 2, che sono queste superfici quadriche, come vi ho detto. E sono usate in architettura proprio perché, come vi dicevo prima, sono superfici che si potevano controllare con la riga e col compasso. Sono superfici, non tutte, ma insomma, coni e cilindri, sfere, coni e cilindri, se non altro, forse anche lissoidi, si potevano controllare con la riga e col compasso. Vedete poi, diciamo, la striscia successiva, questa intermedia, che riguarda invece le superfici ricorsive. Questi, in preciso, sono elicoidi e sono ricorrenti, anche qui le applicazioni di architettura sono tantissime, mentre le quadri che ricorrono sempre nell'architettura dei sistemi voltati, gli elicoidi ricorrono sempre nelle scale, per esempio. Soprattutto gli elicoidi rigati, che sono questi due che vedete cerchiati in rosso. Ma anche questi altri tipi di elicoidi, perché le coperture delle scale elicoidali venivano fatte, conoscerete tutti da Viteisa e Gilles, che è questa superficie qui, fino ad arrivare, per esempio, alle colonne torse, come il baldacchino di San Pietro, per esempio. Qui vedete una elicoide sviluppabile, che forse ha meno ricadute, diciamo, in architettura. Però, diciamo, è il toro. Il toro, per chi ha studiato gli ordini, beh, insomma, la base attica ne adopera due di tori, per cui, insomma, sono superfici che ricorrono, diciamo, in architettura. Ora, fra queste superfici, quelle che avevo cerchiato prima, in realtà, erano le superfici che andremo ad approfondire in questo corso, che sono i cilindri e i coni quadrici, che sono il paraboloide iperbolico, gli elicoidi rigati, faremo poi una lezione sulla curvatura. Vorrei approfittare di questa prima lezione per mostrarvi anche le, diciamo, quelle architetture o quei modelli che saranno poi oggetto di sperimentazione nelle esercitazioni. Allora, la lezione 2 sarà dedicata a coni e cilindri quadrici, che, vi ho detto, sono superfici quadriche, appunto, sono anche superfici rigate. Guardate, sono tutte le prime tre esercitazioni riguardano superfici rigate. L'oggetto dell'esercitazione sarà la modellazione della copertura progettata da Pierluigi Nervi nel 58 per la cattedrale in Nuova Norcia, Pertin, Australia. Questo è un progetto non realizzato di Pierluigi Nervi e vedremo poi come, di fronte ai progetti non realizzati, si dovranno fare anche delle scelte di interpretazione. In questo caso, assimileremo le tre falde, diciamo, della copertura a cilindri, vedremo poi cilindri parabolici e vi spiegherò anche il perché. Comunque, ci sarà questa lezione sui coni e cilindri e seguirà poi questa lezione, invece, sullo studio della copertura della cattedrale di Nuova Norcia. Il secondo argomento chiama in causa il paraboloide iperbolico, altra superficie quadrica regata e la sperimentazione associata allo studio del paraboloide iperbolico interesserà la modellazione di uno dei pilastri dell'ambasciata d'Italia-Brasilia realizzata da Pierluigi Nervi intorno agli anni 70. In verità, non modelleremo la realizzazione del pilastro, ma una fase intermedia progettuale del pilastro. Peraltro è quello che avete visto sulla locandina di questo corso e differisce da questo che vedete qui nell'attacco, diciamo, del solaio. È interessante perché tutte le superfici che compongono il pilastro sono paraboloide iperbolici oppure superfici piane. La terza superficie che andremo a indagare, le terze superfici, sono i ricogli di gati, in particolare viti a filetto triangolare e rettangolare e la sperimentazione interesserà invece la modellazione della scala elicoidale dello stadio Berta a Firenze, che è questa che vedete qui. L'ultima esercitazione riguarda la modellazione di uno scafo, perché la modellazione degli scafi pone una serie di problemi molto interessanti relativi a problemi di continuità, fondamentalmente di continuità di curvatura tra superficie, a cui è dedicata alla lezione che precede questa esercitazione. Questo sembra strano, ma è sempre preso dal repertorio di Pierluigi Nervi, perché è una delle poche barche in ferrocemento che Pierluigi Nervi ha realizzato nella sua carriera, e questa è realizzata intorno agli anni 70, ed era la barca di famiglia, la barca della famiglia Nervi, che ha navigato per sei anni, quindi è una barca che è stata in mare, in ferrocemento, chiamata la Giuseppa. Per concludere la lezione di oggi, vorrei invece fissare con voi alcune proprietà fondamentali riguardanti le superfici quadriche, perché appunto tre delle lezioni saranno dedicate alle superfici quadriche e le relative esercitazioni poi saranno dedicate ad applicazioni in cui appunto ricorrono queste superfici. Allora, ricapitolando, le superfici quadriche vuol dire superficie di secondo grado. Le superfici quadriche, che sono un numero finito e che sono quelle che vi ho fatto vedere in precedenza, sono superfici simmetriche. Hanno tutte un centro, proprio o improprio, e tre assi di simmetria che passano per questo centro. Che vuol dire che una superficie ha un centro e che ha tre assi di simmetria? Beh, vuol dire che se ha un centro e per questo centro passano tre assi di simmetria, beh, qualsiasi punto io prendo sopra la superficie, questo punto avrà il suo corrispondente, cioè il corrispondente di questo punto sulla superficie sarà simmetrico rispetto a questo asse. Per questi tre assi di simmetria passano dei piani, potete immaginare, immaginate tre assi perpendicolari fra di loro e immaginate tre assi x, y e z. Immaginate per questi tre assi che per coppie di questi tre assi passi un piano. Ebbene, questi tre piani sono piani di simmetria della superficie che si chiamano piani principali. Quindi, le quadriche hanno grado 2, hanno tutte un centro, proprio o improprio, e hanno tre assi principali che passano per questo centro. Coppie di assi principali individuano i piani di simmetria della superficie che si chiamano ancora piani principali. Guardate, la nomenclatura è semplicissima. Centro, assi principali e piani principali. Rispetto agli assi principali e ai piani principali le superfici quadriche sono simmetriche, tutte le superfici quadriche. Facciamo un passo avanti. Abbiamo detto che se io taglio una superficie algebrica con un piano, ottengo una curva che ha lo stesso grado della superficie. Ma allora, se io taglio una superficie quadrica con un piano, ottengo una tonica. Perciò, tutte le sezioni di una quadrica sono toniche. Per cui, se io seziono la superficie con i suoi piani principali, ottengo tre coniche. Quindi, le sezioni principali di una quadrica sono coniche. Torneremo su questi concetti poi quando andremo a studiare le superfici singolarmente. La cosa importante è che abbiate chiaro questo concetto fondamentale, per cui le superfici quadriche sono superfici simmetriche, che hanno un centro, tre assi di simmetria e tre piani di simmetria. Se seziono con un piano una superficie quadrica, ottengo sempre una conica. Qui vedete in questi schemi quello che vi dicevo prima. Allora, le superfici quadriche hanno un centro che può essere proprio, che ha un punto materiale, un punto fisico, oggettivo, oppure un centro improprio. Che vuol dire questo? Vuol dire che quel centro è partito per una dimensione non meglio precisata, è all'infinito, è una direzione, diciamolo meglio. Però intuitivamente aiuta forse a capire che questo centro è partito per una direzione. E in questo quadro sinottico vedete invece gli assi principali. Naturalmente le quadriche che hanno un centro hanno tutti e tre gli assi principali, le quadriche che hanno un centro proprio, le quadriche che hanno un centro improprio hanno una coppia di assi principali che è una giacitura, non è più una coppia diretta. Ma insomma, su questo ci torneremo e ci torneremo in dettaglio diciamo superficie per superficie. Però adesso la cosa importante appunto che teniate a mente è questa. Qui vedete un asse solo e questo ve lo anticipo è perché guardate, le quadriche possono essere ellittiche oppure rotonde. Che cosa vuol dire? Beh, vuol dire che se io seziono la quadrica con un piano perpendicolare all'asse principale interno alla superficie ottengo una conica, l'abbiamo visto prima. questa conica può essere una circonferenza oppure un ellis nel caso in cui è una circonferenza la quadrica è rotonda nel caso in cui è un ellis la quadrica è ellittica. E però anche su questo torneremo in dettaglio diciamo andando a studiare le superfici che ho selezionato per questo corso. Un'ultima riflessione riguarda sempre la genesi guardate come un altro metodo tra l'altro molto utilizzato all'interno dei modellatori matematici per generare le superfici è generare le superfici ellittiche per dilatazione delle superfici rotonde. Bene io vi ringrazio questa è l'ultima immagine della lezione di oggi la prossima lezione si terrà mercoledì prossimo allo